Comunque l'amica di Barbara, non è malvato, una bella figa, una bella figa l'amica di Barbara Malotto, una bella figa, perché? A few moments later Barbara, 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 quando eravate fuori Ivan ha detto che la tua amica la faccia da porta Ma sei che scamma Non l'ha detto nessuno No, 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 no Vivan fai una dub, se sai che sei un pedofilo Non posso ridere Non posso ridere Ma venendo dal vino è un'altra cosa ragazzi eh Quanto costa questo? Mi chiedeva tanto eh Per il vino è un mille euro o per il tuo quello? Mille euro? Corco Dio Mille euro Mille euro Mille euro Bu Chi lo so non l'avevo appesa io nel 2001 già mi facevo le feghe salutemi johnny ed io che gli voglio bene perché non mi parla più adesso Paolo stavo parlando con John chi è quello che dà gli ordini? il manager scusa manager posso parlarti un secondo lui è arrabbiato perché la mia mission è per capire a chi vive in Italia che è straniero che è italiano è confuso perché la realtà da dentro è confusione io adoro tutti i popoli del mondo che accettano di essere in Italia e sentirsi italiano però i mondiali quando tifa la sua squadra non tifa Italia se in finale ci va il Brasile con l'Italia io tifo Italia il brasiliano tra Brasile ricorda questa cosa perché sono una persona intelligente ho girato mezzo mondo ok ho 45 anni e ne vado fiero e sono genovese e ne vado fiero per metà sono palermitano ma si taccia? Barbara è piccola non ci andrei mai però è un bel culo possiamo dire il mio solo gioco è fattuato Barbara fatti i cazzi tuoi la mia è tipica c'è un bel cl'esercizio la mia l'importante la mia la mia la tua la mia